Martedì in Consiglio regionale c'è stato un passaggio con il quale si è tentato anche di assestare gli effetti della legge del Rio. Nella fattispecie? Nella fattispecie Regione Lombardia ha fatto la scelta di mantenere tutte le deleghe anti del Rio alle province proprio per non creare un vuoto istituzionale. Ma non solo se limitata a questo ha anche fatto un passaggio importante da un punto di vista economico finanziario perché non dimentichiamo che lo Stato ha tagliato alla Regione Lombardia 950 milioni di euro per il 2015 e Regione Lombardia di questi tagli ne ha riversati solo 8 milioni alle province. Cioè vuol dire che a fronte di 213 milioni che nel 2015 Regione Lombardia dava alle province gliene sono stati dati 205 milioni. È ovvio che questo ha creato per le province qualche problema ma problema sicuramente risolvibile. Ben diverso sono i tagli che invece lo Stato ha fatto alle province, tagli di 200 milioni per il 2015, 400 milioni sarà per il 2016, 600 milioni per il 2017. Per cui se oggi i Presidenti di provincia vanno in giro a dire che devono tagliare il trasporto perché Regione non gli dà i soldi, devono solamente arrabbiarsi col governo di Roma e quindi col governo di Renzi perché è stato Renzi a tagliare 200 milioni alle province lombarde. Voglio anche precisare una cosa che per quanto riguarda la provincia di Bergamo a fronte di un taglio derivato dalla Regione di 800 mila euro che poteva essere tranquillamente sanato con un incremento del biglietto del trasporto pubblico locale Nell'ordine del 3%, quindi di qualche centesimo per biglietto, la provincia di Bergamo ha avuto un taglio di quasi 19 milioni di euro dallo Stato e più si devono sommare 3 milioni e mezzo di sanzione perché ha sforato il patto di stabilità. Per cui se non ci sono trasporti pubblici non si addossi alla Regione Lombardia la colpa ma si addossi finalmente una volta per tutte al governo centrale di Roma. E rispetto all'emendamento del PD che non è passato? Era una strumentalizzazione politica ben sapendo che non poteva passare perché avrebbe creato delle grosse difficoltà a livello di bilancio di Regione Lombardia e poi non dimentichiamo che la provincia di Sondio è stata riconosciuta dalla legge del Rio, quindi non la nostra legge, la legge che ha abolito le province come provincia speciale mentre Regione Lombardia proprio in questo riordino delle autonomie andrà a dare delle agevolazioni, quindi degli incentivazioni premianti per tutte quelle aree omogenee del tessuto montano.